Continua ad aumentare la cifra dei deceduti per covid di Molise. Non ce l'ha fatta una donna, 73 anni, di Santelia Pianisi, che era in malattie infettive. Ora le vittime in totale sono 210 dall'inizio della pandemia. Il reparto del dottor Santopoli registra altri quattro pazienti. Complessivamente sono 53 in questo reparto, 9 in terapia intensiva. Qui è stato trasferito un paziente termolese le cui condizioni si sono aggravate nelle ultime ore. Dai 552 tamponi processati sono emersi 38 nuovi casi. Centri più colpiti, Campobasso e Termoli, con 10 nuovi contagi ognuno. Poi altri 8 a Santelia Pianisi, piccolo comune che continua a essere investito in maniera violenta dal virus. La buona notizia è relativa ai guariti, ne risultano altri 206. Gli attualmente positivi quindi scendono a 1179. Questo è il primo negativo? Sì, sì.